Buongiorno a Pinelli, cento da sense provincia di Latina, fin da un'azione di ceridieti per fare la coscienza e la professionalità, anche se con poche macchie siamo divertiti e abbiamo stato una giornata tra amici, quindi, purtroppo la Sviga ha dato il meglio nella Milane e la tutta della bomba della Pettina, proprio piano piano siamo riusciti a spiegare 5 giri e portare a casa i punti fuori per i punti di valianti. Un saluto a tutti i nostri appassionati.